Arriva la smart del futuro, si chiama Vision 42, è il risultato di un viaggio nella mobilità del domani che Mercedes ha chiaro in testa. Plancia liscia, senza volante, assenza di pedali e altri comandi tradizionali fanno subito pensare alla guida autonoma. Infatti la Vision si muove in autonomia anche senza passeggeri, in modo da poter raggiungere il suo utilizzatore o la coppia di utilizzatori dopo essere stata chiamata come tramite un'app. La parentela con le due posti di oggi è evidente ma non meno vistose sono le differenze sia nel design sia nella sostanza tecnologica che si può percepire dando un'occhiata all'abitacolo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Smart